le persone che si prendono cura allora di questi pazienti noi abbiamo parlato di familiari di amici di caregiver possono continuare la loro vita o è bene che adattino in funzione delle esigenze del loro caro anche la propria vita quindi cambiare un po il loro stile di vita ma io rispondo a questa sua domanda in una maniera che credo possa essere ovviamente compatibilmente con le condizioni la più corretta io credo che i caregiver gli amici i parenti debbano fare in modo che cambi il meno possibile nella vita del paziente e conseguentemente anche nella propria il paziente non ama sentirsi un malato e quindi continuare a essere considerato una persona esattamente così come era considerata prima dell'evento malattia secondo me è la maniera migliore per gestire una malattia come il mieloma non altrettanto si potrebbe dire di tutte di altre malattie ematologiche ma per il mieloma si allora a proposito del mieloma multilo insomma mi scusi se la interrompo non è uno sprint è una maratona e quindi per poter affrontare una maratona ci vuole il giusto allenamento ci vuole il fiato ci vuole la resistenza ci vuole la capacità